Spalletti, la domanda da loro fa arrabbiare. Il Napoli batte la Sampdoria 2-0 a Marassi e si laurea campione d'inverno con due turni d'anticipo. A pochi giorni dalla sfida scudetto con la Juve, Spalletti è molto soddisfatto della prestazione dei suoi, che hanno anche sprecato un rigore sullo 0-0. Però il tecnico del Napoli si arrabbia quando dallo studio tivo gli arriva una domanda sui rigoristi. Il giornalista chiede a Spalletti se i tiratori dei due rigori, Politano ed Elmas, li avesse designati lui. La risposta piccata di Spalletti Noi siamo organizzati bene la risposta piccata di Spalletti ai microfoni di Dazm. Non faccia l'allusivo. Per cui mi faccia la domanda come la deve fare. Il secondo ho detto io di farlo battere a Elmas. Il primo invece avevo indicato io il tiratore e poi i calciatori in campo si sono messi d'accordo. Per cui siamo organizzati bene. Provi a dirlo. Organizzati bene, rispondono dallo studio. Bravo, perfetto, la replica di Spalletti. Virgola